Sassari, ancora un episodio di auto incendiate in città a farne le spese, questa volta un'auto parcheggiata in viale a un cavallo. La vettura è stata avvolta dalle fiamme intorno alle 6 del mattino, immediatamente allertati dai residenti. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Sassari con una squadra operativa inviata dalla sede centrale che ha provveduto a mettere in sicurezza la zona e a spegnere le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del reparto radiomobile di Sassari. Le cause che hanno portato all'incendio dell'auto sono ancora in fase di rilievo, ma sembra molto probabile la natura dolosa.